Vabbè Buongiorno, scusi Lei è il portiere? Le vacche sono belle Come? Le vacche sono belle Vabbè, volevo sapere se lei è il portiere del fortuna che cerco io E insomma basta, che cosa andate cercando? Io cerco gli amici di Bebello Magoni, sono un suo parente, vengo da Napoli Ah, sai tu, sì, il posto che cerchi è questo, ma per entrare ci vuole il biglietto Perché c'è spettacolo questa sera? Ma che spettacolo? Il biglietto, la lettera che ti abbiamo mandato per farti riconoscere Ah, la lettera di Carlo Eccola qui Le vacche sono belle, ma le vacche non c'entrano Le facciamo entrare, ecco, si allarga la porta, si sfinge una vaffa, mi piace Vieni la vaffa